E' più forte la iena o lo squalo? Scopriamolo con Zig e Sharko! Adesso su Boomerang! Tra poco ci sono i Baby Looney Tuss su Boomerang! Adesso ci sono i Baby Looney Tuss su Boomerang! Che bello! Tra poco inizia Toraemon! Vediamo insieme che combina su Boomerang! Vediamo quale pasticcio di Nobita dovrà sistemare Toraemon! Adesso su Boomerang! Voliamo insieme sulle ali dell'avventura con Dragons, i cavalieri di Perk! Tra poco su Boomerang! Ci aspettano tante emozioni e divertimento con Dragons, i cavalieri di Perk! Adesso su Boomerang! Boomerang! E' l'ora di vedere tutti insieme il mezzogiorno di Boomerang! Tra poco su Boomerang! Che ora è? E' mezzogiorno! Mettiamoci comodi! Inizia il mezzogiorno di Boomerang! E' tempo di conquistare il mondo! Combattiamo il crimine insieme a Crypto The Super Dog! Adesso su Boomerang! Prepariamoci per una missione segreta! Tra poco c'è l'ispettore Gadget! Su Boomerang! Pronti per entrare in missione? Adesso inizia l'ispettore Gadget! Su Boomerang! Tra poco c'è Mr. Bean! E' troppo divertente! Guardiamolo insieme! Su Boomerang! Adesso si ride! Tutti pronti? C'è Mr. Bean! Su Boomerang! Non perdere i dolcissimi My Little Pony! Tra poco! Su Boomerang! Quante storie incredibili con i My Little Pony! Adesso su Boomerang! Tra poco si ride! Con Pat e Stan! La coppia di amici più strana che ci sia! Su Boomerang! Adesso inizia Pat e Stan! Mettetevi comodi! Tanto divertimento in vista! Su Boomerang! Chi di noi può resistere al muso felice di un cucciolo? Pound Puppies! Tra poco! Su Boomerang! Arrivano scodinzolando! Sono i Pound Puppies! Vediamoli insieme! Adesso! Su Boomerang! Tra poco! Non perdere Sam il pompiere! Su Boomerang! Adesso! Non perdere Sam il pompiere! Su Boomerang! C'è un mistero da risolvere! Può riuscirci solo la gang di Scooby-Doo Mystery Inc! Tra poco! Su Boomerang! La gang di Ficcanaso di Scooby-Doo Mystery Inc! sta per affrontare un mistero! Vediamo di che si tratta! Adesso! Su Boomerang! Tra poco! Privedi di divertimento! Con il mitico Scooby-Doo! Su Boomerang! Risolviamo i misteri più difficili con Scooby-Doo! Adesso! Su Boomerang! Tra poco! L'esplosiva simpatia degli amici di Tazmania! Su Boomerang! Quante storie incredibili con gli amici di Tazmania! Adesso! Su Boomerang! Tanto divertimento tra poco! Arriva il The Looney Tunes Show! Su Boomerang! Che bello! Il The Looney Tunes Show inizia adesso! Su Boomerang! Tra poco inizia Tom e Jerry Tales! Mettiamoci comodi e guardiamolo insieme! Su Boomerang! Il divertimento continua tra poco! Su Boomerang! Adesso Leone il Cane Fifone! Su Boomerang! Tra poco un nuovo episodio di The Flintstones! Su Boomerang! Fred e Wilma sono pronti a condurci nell'età della pietra! I Flintstones! Adesso su Boomerang! Siamo pronti a passare una fantastica serata insieme a Scooby e la sua squadra! Venerdubidu! Tra poco su Boomerang! Mettetevi comodi! Sta per cominciare... Venerdubidu! Su Boomerang! Che bello! Tra poco inizia il Tom e Jerry Show! Ci sarà da divertirsi! Su Boomerang! Adesso ci sono Tom e Jerry! Vediamoci insieme il loro show! Su Boomerang! Tra poco iniziano le divertenti avventure della Pantera Rosa in co! Su Boomerang! Adesso scopriamo quale disastro combinerà la Pantera Rosa in co! Buon divertimento su Boomerang! Boomerang! Ce la farà Oggi a catturare quei maledetti scarapaggi! Scopriamolo tra poco su Boomerang! E adesso vediamo se Oggi riesce a prendere i maledetti scarapaggi! Su Boomerang! Tra poco in Misteri di Silvestro e Titti! Su Boomerang! Cosa si inventerà stavolta Nonna Granny per risolvere l'ennesimo caso? Lo scopriremo nei Misteri di Silvestro e Titti! Adesso su Boomerang! Abbiamo visto proprio un bel film, vero? Rimaniamo a divertirci su Boomerang! Tra poco inizia Tom e Jerry Tales! Mettiamoci comodi e guardiamolo insieme! Su Boomerang! Tutti pronti? Adesso iniziano le divertenti storie di Tom e Jerry Tales! Su Boomerang! Cosa faranno i nostri eroi della giungla? Scopriamolo insieme! C'è la nuovissima serie Vita da giungla alla riscossa! Tra poco su Boomerang! Scopriamo cosa combinano gli animali più pazzi del mondo! C'è vita da giungla alla riscossa! Adesso su Boomerang! Un altro episodio! L'Ispettore Gadget! Tra poco su Boomerang! Tra poco un altro episodio di Oghi e i maledetti scarafaggi! Su Boomerang! Torniamo tra pochissimo! Subito dopo la pubblicità! Ricominciamo a divertirci! Con Boomerang! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!